Portata in salvo una donna, 65 anni di cuneo, che per una scivolata si è procurata un importante trauma ad una caviglia. La donna faceva parte di un gruppo di escursionisti, usciti nella mattinata per effettuare la risalita del fiume argentino, nelle montagne dell'Orso Marso, nel Parco Nazionale del Pollino. L'allerta da parte della centrale del 118 di Cosenza è scattata nel pomeriggio di ieri. Sono subito intervenute due squadre di tecnici della stazione Alpina Pollino, unitamente ai tecnici del soccorso alpino della Guardia di Finanza, presenti anche i carabinieri forestali di Grisolia. I tecnici hanno raggiunto a piedi gli escursionisti, mettendo in sicurezza la donna infortunata, che è stata successivamente posta in barella e trasportata fino ad un rifugio montano dove ad attenderla c'erano i medici del 118 per le cure del caso. La 65enne è stata trasferita all'ospedale di Cosenza. A seguito di episodi similari, il soccorso alpino raccomanda di prestare molta attenzione nella preparazione della propria escursione, consultando i bollettini meteorologici e informandosi sulle condizioni ambientali del luogo in cui si intende andare.